Bentornati, bentornati a tutti i lettori elettrici, di nuovo qui su Blabla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy. Siete pronti a partire nuovamente con noi? Benissimo, date posto, allacciate le cinture e rilassatevi, si parte. Ma non sarebbe un viaggio emozionante se fosse solo io, Carbo, il vostro pilota, essere presente in questo veicolo dalle prestazioni portentose? In qualità di quello che ha snifato più righe di inchiostri tutti quanti e sa apprezzare il profumo dei libri nuovi, hai il piacere di essere il nostro navigatore, la nostra guida, il despota che sceglie cosa si legge e per qualche motivo non sembra cagarsi mai libri o diatori di cui probabilmente vorresti invece sentir parlare. Un giorno cadrà il suo regno di terrore, ma intanto dobbiamo fare buon viso e cattivo gioco. Signori, date benvenuto a Tommy! Grazie dell'introduzione, Carbo, buonasera a tutti, mi auguro che troverete il nostro podcast di oggi interessante. Ed ora vi presento il nostro tuffale di fiducia, che sia il motore in panna, una gomma a terra o un'orda di goblin sulla statale risolve sempre la situazione. Ecco a voi, Toccio! Buonasera a tutti e mi raccomando preparatevi e sellate i vostri destrieri in partenza per questa avventura. La cintura in sicurezza vuol dire, no? Perché i cavalli in autostrada non li vorrei vedere. Tranquillo, Tommy, non ti preoccupare, parlo con cognizione di causa, adesso... Soprattutto ci si riferisce alle corse dei cavalli a Messina. No, credo che sia già entrato nel mood del libro che... Quella è a Siena, innanzitutto. Eh, ma tu non sai che pure a Messina, al mezzo alle strade, fanno le corse dei cavalli. Ci sono città dove in mezzo alle strade non fanno corse dei cavalli? Eh, va bene. E l'ultimo e meno importante, il tizio che da solo può rendere un viaggio fastidioso, il più piccolo tragitto insopportabile. Quando lo vedi sul cilio della strada dovresti spreciare tutto gas, mentre noi ce lo siamo presi. La tua pista qualunque che nessuno vorrebbe in macchina. Simone? Allora, punto numero uno, vedo che Tommy è ritornato sopra di me, quando invece di sistemare i problemi che ha causato, ne ha creato altri, inimigandosi anche i lettori e i fan di The Witcher. E inoltre gli insulti continuano, quindi non mi sta bene. Perciò sarei probabilmente il primo a voler rovinare il mio regno di terrore dai consigli dei libri fantasy che non si vuole cagare nessuno. È già stato rovinato e non so il perché sei ritornato. Mi dissocio, mi dissocio, esco dall'auto per i cavoli miei. Io mi stavo fermando e volevo far uscire direttamente. Esco io, esco io, con l'auto in corsa. Poi andate. Va benissimo. Per favore, per favore. Mandiamo la carta. Realmente alla velocità. Simone lo lanceremo dall'auto a fine puntata. Ok, ovviamente. Ritorniamo in carregiato tutti quanti. Incominciamo a parlare subito dei libri che vi andremo a presentare in questa puntata. Partiamo subito con il primo libro che hanno letto Tommy e Andrea. Che finalmente possiamo dire, recensiamo libri di donne, visto che nel primo puntato abbiamo solo parlato di uomini, quasi tutti scrittori uomini. Quindi passo la parola a voi che ci parlerete di... Cecilia Randall. Ti stavo aspettando Andrea che parlava. No, no, no. Ma no, ci siamo messi d'accordo, Tommy. Tu dicevi Cecilia Randall. Cecilia Randall. E il titolo è... Hyperversum. Benissimo. Visto, ragazzi, ci siamo. Ok, posso avere la mia pacca sulla spalla? Siete più o meno al livello dei saluti che facciamo di solito a fine puntata. Esatto, però lo facciamo all'inizio. Stasera particolarmente frizzantina, infatti. Allora, vorrei sottolineare che non è che abbiamo evitato i libri di scrittrice, cioè è capitato a caso, secondo me, perché delle scrittrici fantasy ce n'è una marea e molti di loro sono brave a fare il loro lavoro. Ok, adesso, dopo questa affermazione per l'equaterosa del mondo del fantasy, possiamo iniziare a parlare del libro? Sì, con piacere. Il racconto parla di questa storia in cui i nostri protagonisti si ritrovano nel Belgio, nel Medioevo, in mezzo a una guerra tra la Francia e l'Inghilterra. Ma, prima di arrivare in questo momento, da dove inizia la storia? Beh, da dove potrebbe iniziare? Ovviamente non nel Medioevo e non in Belgio. Ovviamente. I nostri personaggi sono dei ragazzi americani, in particolare il protagonista principale, che secondo me è proprio il protagonista che incarna tutta la storia, è Daniel, con la sua ragazza ed altri amici, e l'altro protagonista principale è Ian, questi due ragazzi americani molto appassionati di questo gioco chiamato Hyperversum, in cui riescono a collegarsi tramite dei visori 3D collegati con cavia e fibra ottica, riescono a collegarsi a questo gioco che riesce a creare realtà virtuali, molto realistiche, che permettono ai giocatori di vivere avventure, scenografie ambientate in ogni angolo del mondo e in ogni epoca storica. Quindi diciamo che, diciamo che, diciamo che, dillo, dillo, dillo Simone. Una sorta di Swerved Afterline. Una sorta di Swerved Afterline, ragazzi, ma... Allora, no, aspettate un attimo, perché, ok, questo è il cliché del momento, ma in realtà c'era stato prima Huxin, che da quel punto di vista lì, negli anni 90, fino agli anni 90, come Isekai, cioè che proprio non erano Isekai perché si andava avanti indietro nel tempo, però vabbè, no, cioè me fai divagare con queste cose. Vabbè, si parla semplicemente, insomma, di giochi in realtà virtuale dove rimangono bloccati, mettiamola così. Sì, praticamente i nostri protagonisti, i nostri ragazzi americani, i giovani ragazzi americani, se non sbaglio, Daniel, 22 anni e Ian, 26 anni, rimangono bloccati appunto in questa realtà medievale, nell'anno del Signore 1214, nelle Fiandre, e l'ambientazione riguardava proprio la battaglia di Bouvinet, una battaglia molto importante, realmente accaduta, fra Francia e Inghilterra. Professore, scusi, professore, una domanda. Dimmi. Sarà materiale d'esame questo? Sì, sarà anche materiale d'esame la risposta di... Quanta magia c'è all'interno di questo libro? Zero. Ok, allora scrivo. Simone, 30, bravissimo. Questo è un po' il punto interessante da fare, infatti hai sottolineato giustamente. Cioè non è presente la magia, non ho capito, cioè non ho capito il sarcasmo. È prevalentemente un romanzo storico, l'autrice Cecilia Randall, che se non sbaglio appunto è addirittura un'autrice italiana, si chiama, è il suo vero nome, sì, Cecilia, lo pseudonimo... Randall? È lo pseudonimo di Cecilia Randazzo. Ma veramente? Sì. Cioè ragazzi, io ero fischio orgoglioso della pronuncia, che stavo correggendo la pronuncia italiana, e mi dite che non è manco vero come nome? Tommy, è uno pseudonimo, non deve... Tommy sia Cecilia, non Cecilia. Sì, anche perché Cecilia è scritto Cecilia, quindi lo pseudonimo è il suo nome. Tattolo fuori dalla macchina, fuori dalla macchina. Io ragazzi sapete cosa mi immagino, tipo il momento in cui Tommy ha scoperto che Cecilia Randall non è il vero nome, era uno pseudonimo, e invece il vero nome era Cecilia Randazzo, com'è? Tipo il meme è quello che c'è Lisa e Ralph, quando Lisa gli dice non ti amo, vedi quel momento è che lui si spezza il cuore, puoi vederlo in questo momento. Io continuo a dire... Abbiamo visto anche al pit stop un momento del genere. Ma ero contento perché ero io a correggervi sulla pronuncia, non me l'avete detto mai, solo adesso che siamo dal vivo, vedete che non è vero. Anche perché penso che sia l'unica cosa su cui tu cercavi di correggere noi sulla pronuncia. Perché ero convinto! Ma poi la cosa divertente, Tommy, ma tu immagina... Torniamo sul libro per piacere, è bello parlare del nome dell'attrice, però torniamo sul libro. No, no, aspetta, ok, adesso torniamo però, l'ultima cosa. Carbo, immagina questo, Tommy è un grandissimo fan di questa scrittrice, e se non sbaglio è anche riuscito ad andare a qualche convention in cui parlava questa. Ah, ok, perfetto. Allora mi sono confuso. Però immaginati se riuscivi davvero ad andare in qualche convention e ti devi... Sì, potrebbe... Cecilia potrebbe farmi un autografo, eccetera, e si fermava Randazzo. Eh, che cacchio è? Cos'è questo nome? Mi sta prendendo in giro. Ok. Lo ritorniamo sul libro, per favore. Sì, e... Tommy, spiegaci perché non c'è la magia in questo libro. Allora, la magia diciamo che esiste, ma è un cavillo che la scrittrice utilizza semplicemente per catapultarci in il suo romanzo storico, nel senso che inizia la storia, il nostro gruppo di protagonisti si trova a giocare e con questo apparato di realtà virtuale e per un motivo particolare restano bloccati all'interno del mondo e non riescono a uscirne fuori più. Non ci sono più quelle opzioni che loro riuscivano a vedere per scollegarsi dalla realtà virtuale. E, ovviamente, in quel momento finisce la magia fantasy, questa specie di teletrasporto, di viaggio nella realtà medievale di questo gioco e inizia il romanzo medievale, il romanzo storico, perché abbiamo tutti gli ingredienti per dire effettivamente che questo è un romanzo storico. Ecco perché quando uno dice romanzo storico non dice romanzo fantasy, quando parla di perverso, perché semplicemente lo vedete all'inizio della storia e poi si perde completamente. la magia fantasy non l'avete più da quel punto di vista. Diciamo che l'unica cosa che ha di fantasy è il fatto che la scrittrice ha utilizzato il fatto che loro restino bloccati all'interno del gioco come una sorta di viaggio nel tempo e poi dopo da lì diventa un vero e proprio romanzo fantasy. Eh, fantasy, scusa, storico. Sì, però c'è anche da considerare questo lato. i ragazzi quando entrano all'interno della loro realtà virtuale impersonano dei personaggi facendo varie missioni, crescono di livello, sono personaggi chiamiamoli skillati in qualche modo. Cioè non è che c'è un... No, aspetta un attimo perché forse qui rischiamo di confondere alcuni ascoltatori o ascoltatrici che hanno comunque esperienza nel genere di questo qua che si chiama Isekai, che è il trasporto in un altro mondo o la rincarnazione in un altro mondo. e non esiste questa specie di finestrine, di comunque input del gioco che ti dice che hai salito di livello, che hai incrementato la tua forza o che hai imparato una nuova abilità. No, questo non esiste. Cioè è una formazione... Sì, sì, certo, sì. Ok, nel momento in cui sei in gioco ovviamente non ce l'hai, però i protagonisti, comunque i giocatori di questo gioco possono interagire, ritornare e uscire dalla realtà virtuale, comunque sia grazie al visore che comunque sia indossano. Nel momento in cui stanno giocando non lo vedono esattamente, però avvicinando la mano alla fronte riescono, tastando, comunque sentono che c'è la sua presenza e grazie a quello possono poi tornare indietro. Quello che succede nel momento in cui si rendono conto che sono rimasti intrappolati durante una missione, durante una sessione di gioco, è che appunto non riescono più a trovare il loro visore, non riescono più a... per colpa di aver perso questi visori non riescono a tornare indietro. Sentono anche gli olori del posto, i sapori, cioè c'è un'immersione veramente che scala con una potenza spaventosa che sembra veramente reale. Esatto, ci sono dettagli appunto come dice Tommy, gli odori ed altri dettagli come, non so... Il dolore. Il fruscio del vento o il dolore, che prima non sentivano che fanno capire che la loro realtà è troppo aumentata, c'è qualcosa che non va. Però il punto a cui volevo arrivare era questo. Alla fine tutta l'ambientazione appunto, l'autrice la tratta molto bene, con molti dettagli, e quindi riesce a calarti molto bene nell'ambientazione medievale. Tu quello che hai, che continua a essere il tratto fantasy, è appunto come interagiscono 5, 6 ragazzi adolescenti, adolescenti o comunque sia giovani americani che non sanno assolutamente niente. A parte, guarda caso, Ian, che guarda caso, hanno cominciato a giocare questa campagna perché era recentemente tornato, ma guarda un po', proprio dalle fiandre, perché guarda un po', sta facendo il dottorato in storia antica proprio su la battaglia di Bovinet, proprio su quel posto, guarda caso, e quindi sti pori ragazzi riescono a non morire subito campando sulle informazioni che questo qui conosce. Sì, perché... Spezziamo la lancia a favore, è Ian che ha settato le impostazioni iniziali di questo mondo, per cui mettendo proprio il luogo all'epoca che lui ha studiato. Però ecco, ci sono tutte le interazioni di questi ragazzi che non sanno assolutamente come comportarsi in un mondo medievale, quindi banalmente cambiano i modi di salutare, come interagire con le persone, le ragazze sono vestite in modo strano rispetto per l'epoca, non c'è il sapone, puzzano tutti, è meglio è. Come vanno in bagno questi poretti? Questa sorta di simulazione così immersiva è fedele ai tempi del Medioevo? Cioè è molto fedele? Ha fatto un grosso lavoro di ricerca dei personaggi storicamente esistiti, effettivamente, molti nobili locali, a gradescrizione degli stemmi o degli eventi accaduti, molti sono reali, le parti che ha inventato servivano appunto, diciamo, per creare il punto per poter inserire questi ragazzi, le storie di questi ragazzi. Capito. Diciamo. Quindi ecco, in questo libro poi si svolgeranno tutte le varie avventure che dovranno affrontare questi ragazzi per poter ritornare a loro epoca, fondamentalmente. Ma una cosa, ma il dono come è molto proprio pesante o più leggero? Cioè non capisco se sia una cosa tipo una lettura più leggera o ci sia tipo anche un... È una lettura, no, è una lettura young adult, perciò non ti dovrai aspettare di trovare stupri, massacri. C'è sicuramente comunque come contesto di sottogenere, sì, c'è la morte, c'è la guerra, però non c'è una visualizzazione di queste cose e... Sì, esatto. Da quel punto di vista lì. C'è di fronte il classico eroe, i classici eroi che rimangono impassibili davanti al pericolo, sì, che soffrono, però il classico eroe che fa sempre la scelta giusta, mettiamola così. Sì, no, ci sono un po' dei cliché degli young adult, per esempio tipo Ian, il nostro prononista, è molto un marisù da quel punto di vista lì, come ne abbiamo parlato. Marilu, o garistutto, sei contento? Certo, garistutto, mi confondo con le parole, però c'hai ragione. E c'è anche il discorso, tipo che i ragazzi del nostro gruppo in questo contesto medievale per un motivo o l'altro diventano sempre più competenti nel contesto, nella situazione, se lo richiede. C'è questo pezzo molto young adult che si sente nel libro. Però non dà fastidio. Nel tipo che gli adulti sono competenti finché non arrivano i nostri ragazzi, allora sono solamente i nostri ragazzi che sono veramente più competenti. Partivano già da una base preimpostata, perché ognuno diventa molto competente nel suo ambito, ma perché già nel mondo, diciamo, nostro, contemporaneo, avevano già delle basi in quell'ambito lì, erano già bravi in quell'ambito lì e quindi è semplicemente un come poi riadattarsi ai tempi del Medioevo. Sì, ma anche quello è molto tirato. C'è questo scusante. C'è da dire anche questo. Anche banalmente accendere un fuoco in mezzo alla natura senza niente. Ad esempio, se hanno fatto tutti i Boy Scout, ok, e poi e poi. ad esempio, quindi arrivi, prendi, impari tutto. Sì, prendono le loro legnate, le loro stagiate nei denti all'inizio, però sì, quello che ti fa vedere è che sono tutti comunque intelligenti, compiono tutti la scelta giusta, le scelte giuste, imparano in fretta, eccetera, eccetera. È molto legnare da quel punto di vista. certo. Esatto. Ecco perché è un genere gianca doll, perché se stiamo parlando proprio romanzi storici più con il genere verso un target più maturo, vedi che ci sono comunque complicazioni, comunque delle perdite o del pathos, proprio vogliamo farlo più generico, molto più consistenti, molto più veri da quel punto di vista. invece questo sembra, ci sono problematiche, ci sono momenti di tristezza, se vogliamo, comunque di suspense, però effettivamente c'è questo tono di non impellenza, di sciagura, cioè non c'è questa disperazione vera e propria che te la fa sentire nel cuore. I momenti critici effettivamente si risolvono tra virgolette abbastanza abbastanza in fretta, non li fa non li fa i nostri personaggi non li fa rosolare troppo. Però, cioè, comunque, tornando a un punto che hai detto prima, Andrea, secondo me la scrittrice è veramente tanto di cappello perché lei sa descrivere questo contesto medievale veramente, veramente bene. I dettagli che aggiunge, il modo della narrazione che fa scorrere la sua storia è fatta veramente bene, è da gusto, da gusto perché uno non deve faticare ad immaginarsi, a trovarsi in quel momento, in quel posto lì perché la scrittrice ti prende dalla mano e ti fa vedere tutto senza farci lavorare nella nostra immaginazione perché è già tutto impostato, non dobbiamo fare altro che leggere. Quindi, concludendo, ragazzi, lo consigliate? È il primo libro della saga? Non so, c'è qualche altra informazione che è utile parlare? È il primo libro della saga che prende appunto il nome di Hyperversum, il primo libro si chiama solamente Hyperversum, mentre i seguiti hanno il secondo si chiama sempre Hyperversum Il falco e il leone e il terzo libro Hyperversum e il cavaliere del tempo e diciamo che come libro per ragazzi è assolutamente godibile, la parte storica è estremamente accurata diciamo che lo svolgimento della storia i temi trattati sono comunque molto coinvolgenti per lo meno dal mio punto di vista che sono tra le altre cose un appassionato di storia quindi mi ha coinvolto molto questa narrazione mettiamola così al di là dei magari appunto come dicevamo prima le cose che vanno molto sui binari e i protagonisti che se la cavano sempre tra virgolette al di là di questo magari sono per diciamo trame un po' più complicate mettiamola così però io lo consiglierei molto soprattutto per per chi si affaccia cioè soprattutto i ragazzi che si affacciano la prima volta sia nel fantasy ma che anche nel romanzo storico qualcosa che non siano uno dei quei dei libri che normalmente parlano a scuola ecco quello l'ultimo punto è il mio pensiero perché secondo me è un bel libro da consigliare perché potrebbe essere un'introduzione alla letteratura del genere dei romanzi storici perché è una lettura scorrevole non troppo complicata non troppo pesante anche se i libri sono corposi stiamo parlando forse 700-800 pagine cioè non sono ovviamente corti da quel punto di vista lì però la lettura tutto sommato è molto scorrevole e è vero che manca il pezzo fantasy perché c'è solamente l'inizio voi non lo vedete mai più forse alla fine se proprio vogliamo però è una roba molto molto leggera il fantasy non leggete questo libro cercando il fantasy il lato dei ragazzi il lato dei ragazzi che si interfacciano al medioevo anche tutti i discorsi temporali alla quasi alla linea temporale del nostro doc McFly è un pochino di fantasy dai salviamolo non c'è la magia però dai sì ok ok tanto lo sai come la pensi c'è chi ha visto il nostro pit stop io la penso pure che il romanzi di fantasy storici sono fantasy però io sto parlando dell'idea di fantasy più generica più normale diciamola e da quel punto di vista lì non è che vi voglio fare aspettative cioè non cercate il fantasy in questa storia se volete comunque sempre Cecil Randall adesso non mi ricordo il cognome Cecilia Randall ecco Milenio di Fuoco che è un'altra storia sua c'ha molto più fantasy rispetto alla parte del romanzo storico perché riguarda sempre un romanzo storico però c'è molto più fantasy stiamo parlando di una specie di ci sono razze tipo demoni c'è un po' di magia perciò forse sarebbe anche il caso di guardare quella storia lì se volete qualcosa di un po' romanzo storico e fantasy perché sono due libri due punti di vista diversi per il libro ogni libro un punto di vista diverso un protagonista femminile con i controcazzi nella prima storia dei Milenio di Fuoco e dopo un protagonista maschile nella seconda dopodiché questo come ho detto è un'introduzione ragazzi cioè libri di romanzi fantasy ce n'è diversi tipo James Clavel con Shogun che io lo consiglierei fortemente di leggere a chiunque e o se no il classico Ken Follett che troviete i pilastri della terra ok scusa no 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 del romanzo storico cioè proprio se volete un romanzo storico con Cotrucazzi io lo sto facendo grazie James Clavel l'unica cosa che vorrei aggiungere a quello che avete detto voi sulla serie di Hyperverse insomma che non è soltanto una trilogia ci sono altri libri che sono usciti dopo della trilogia che non vengono considerati diciamo un continuo della trilogia ma da da come ho capito io non li ho letti mi sono fermato alla trilogia questa canonica di cui avete menzionato voi prima ma ci sono altri libri appunto che dovrebbero essere ambientati vent'anni dopo sì c'è lo spacco li menziono giusto perché avete menzionato tutta la trilogia quindi allora mettevo questo punto diciamo benissimo così abbiamo serrato i cavalli preparato le staffe e adesso di cosa andiamo a parlare Carbo Tommy e Alessandro Mannarino Andrea andiamo io e Simone per parlarvi di un altro libro di un'altra scrittrice prego Simone se vuoi andare a te iniziare poi io ti seguo a ruota devo però io devo però dobbiamo tutti e due vai allora il libro di cui vi parleremo io e Carbo si chiama Tenebra Rossa è il primo libro del Grishaverse ovvero l'universo fantasy letterario nato dalla penna di Lake Bardugo e in Tenebra Rossa seguiremo le vicende di Alina una ragazzina che scoprirà per necessità di aver represso dentro di lei per troppo tempo i poteri di una Grisha ovvero di una maga di Ravka la nazione dove la storia è ambientata diciamo Ravka è una nazione in guerra su più fronti ed è divisa in due dalla faia d'ombra ovvero una linea che taglia appunto la nazione in due dividendola dalla sua costa l'unico modo che il paese ha per avere dei commerci visto che da tutto il resto dei fronti è in guerra difficile da superare per via dell'oscurità che la permea e per i demoni che la abitano la faia rappresenta appunto un incredibile problema per la nazione Alina scoprirà di essere l'unica speranza per Ravka per depellare la faia riuscire a soddisfare le aspettative del popolo leggetevelo oppure no vedete voi il popolo inteso come io e Simone abbiamo detto di no però va bene bisogna fare una premessa bisogna fare una premessa se vogliamo parlare di questo libro allora è un libro che comunque è uno young adult sempre quindi è uno young adult però che è molto permeo nello young adult quindi io sono comunque molto fuori target del libro inoltre secondo me è un libro che potrebbe essere diciamo molto più godibile dal punto di vista del pubblico femminile quindi io sono ancora più fuori tema perciò leggere questo libro è stato un po' guarda non sono d'accordo con te nei primi due punti e hai scherze dote di immedesimazione guarda io ho cercato di immedesimarmi in tutti i modi possibili nel leggere questo libro e fondamentalmente ci ho provato no no il libro è una merda il libro è una merda concordo con te cioè io non concordo sul fatto che il genere young adult debba essere comunque fuori portata nonostante i gusti nostri e non concordo sul fatto che sia un target per i femminili scusa un attimo Tommy il discorso è questo essendo uno young adult è normale che diciamo tra virgolette la storia si soffermi di più su determinate su determinati argomenti mettiamola così argomenti di cui quando tu mi presenti un libro dove la storia verte su delle guerre e sulla problematica appunto comunque abbastanza complessa per uno young adult della faglia d'ombra che divide lo stato in due tagliando fuori proprio la parte che potrebbe essere d'aiuto commercialmente per poter portare risorse all'esercito quindi mi comincio a parlare un po' più di strategia di come si mantiene un esercito e cose varie è normale che io preferirei che tu vada a snocciolare queste cose che mi presenti all'inizio del libro ovviamente essendo un young adult si soprassede proprio senza problemi su tutti questi argomenti e si va a parlare delle problematiche di Alina delle sue problematiche d'amore delle sue problematiche nel relazionarsi con i ragazzi delle sue problematiche del fatto che di tutti i problemi che c'ha insomma di cui io magari rispetto alla guerra avrei preferito la guerra però cerco di immedesimarmi diciamo nel 14enne nella 14enne che legge il libro e che magari invece è più interessato a queste cose e perciò non no cioè questo questo è il punto in cui non sono d'accordo perché stiamo insultando i lettori giovani è semplicemente una cosa perché è vero no te le stai dicendo che questo libro di merda potrebbe essere del loro interesse capisco il perché le mie diciamo i miei gusti tra virgolette quello che io avrei preferito vedere non c'è stato questo è il discorso quindi non gliene faccio una colpa questo è vero però quello che ti voglio far capire no cioè quello che ti voglio far capire io è che è vero che ci sono punti di interessi che vengono approfonditi e giustamente per i gusti personali di ognuno ma gli adulti anche cioè il lettore più maturo pure in generale non li frega un cazzo di queste cose è vero te lo concedo però ci sono storie young adult che hanno tutti questi cliché o di più o un po' di meno ma comunque la storia è fatta bene e allora il lettore maturo il lettore con esperienza che di quei cliché non le frega niente comunque la storia a fine libro la trovo comunque soddisfacente infatti stavo dicendo che io c'erano di in medie di maghi nel nel del target di questo libro per vai tucio potete iniziare a massacrarlo quando simone ha finito la sinossi l'ho finita ah così si si nient'altro no ma davvero si si ma il mondo non c'è il sole del mondo è quella protagonista potrei aggiungere altre cose ma di base sarebbe spoiler forse quindi beh oddio spoiler vabbè un pochino del mondo incoambientato un po' del background avrei parlato poi nel senso ah insomma allora scusa Tommy continua io volevo dire semplicemente che appunto Tommy io cercavo di immedesimarmi nel nel 17 anni che leggesse il libro mettendo da parte i miei gusti cercando di capire che quindi il libro era normale che parlasse di più di queste cose cercando di dargli una possibilità io ho sbagliato perché non so la verità ma non perché parla di queste cose ma perché non mi è piaciuto proprio il libro in generale a partire dagli sbagli più dai scivoloni diciamo più tranquilli su cui sarei potuto passare sopra fino ad arrivare a intere cose che non funziona all'interno del libro c'hai ragione non è che te volevo venire contro in modo così pesante è solamente che secondo me il genere young adult c'è ok c'è quello più indirizzato per i maschietti quello per i femmini se vogliamo dirla così forse ho detto le parole sbagliate però c'è per il genere femminile e il genere maschile ok è vero però secondo me dividerlo così pesantemente il genere young adult è sbagliato perché se la storia alla fine è raccontata bene cioè il libro lo potresti considerare sia i maschi che le femmine cioè nonostante il target sia più femminile in questo caso no e lo so che dici che il target è femminile e c'hai ragione però anche i libri young adult che hanno un target femminile perciò c'è tutti i trop classici e i cliché classici di un young adult femminile triangolo d'amore prescelto e la protagonista nonostante sia perfetta bellissima intelligentissima è sempre c'è un complesso di inferiorità e non si sa perché tutti gli adulti sono incompetenti ok c'è sempre questi trop qui magari non c'è la parte d'azione c'è meno parte di combattive che potrebbe interessare al ragazzo 15 anni di turno è vero però se la storia è raccontata bene è comunque un libro che non questo il genere young adult col target femminile che potresti consigliare tranquillamente a un'altra persona un altro maschio o un altro lettore più adulto e quello è il punto mio scusate ti scuso anche target ma mi fermo qui posso posso dire vado al volo vorrei dire cosa ne penso io vai vai poi dopo se devo aggiungere qualcosa aggiungerò ma non sarà qualcosa positiva quello che aggiungerò prima cosa come avevi detto prima è per un target più o meno che secondo me va tra i 12 e i 20 anni 20 fe largo vabbè facciamo che secondo me è un target che può orientare tranquillamente per essere letto questo libro per me è adolescenza è adolescenza 12-20 anni più o meno 20 anni forse sono un po' più lungo però comunque siamo lì contiamo pure che è stato il primo romanzo della Vardugo quindi forse non c'era tutta questa grande esperienza e dai ce lo metto come come deterrente diciamo a che non gli sia venuto proprio un grande lavoro ci sono alcune cose che tutto sommato possono essere gradevoli l'ambientazione che è questa sorta di russa russa zarista di inizio 800 che non è male non è stata mai ripresa il fatto che no 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 scusa è fatta malissimo io intendo proprio il concept intendo il concept di prendere la Russia cioè non dopo come è stata messa posso un attimo parlare in secondo dell'ambientazione scusa Carbo mettiamola così era stata carina l'idea però è stata resa malissimo perché nelle descrizioni non mi lasci nulla cioè nel senso non mi lasci nulla di come ti posso dire di suggestivo o che comunque sia io dico ah cavolo questa è proprio un'ambientazione del Grishalers cioè non mi lasci niente di tutto ciò a parte la faia dove e poi dopo anche una cosa che ho trovato veramente quella ok era uno scivolone su cui potevo passare sopra però anche una cosa che ho trovato veramente ridicola è che parla molto dell'esercito parla molto insomma delle figure dello stato cose varie per alcuni mette nomi in stile comunque russo oppure Tianinki adesso non mi ricordo le procedure sono complicati da da pronunciare e poi trovi nomi tipo evoca tempeste o metti tutto in russo oppure metti tutto in italiano non puoi fare un po' un po' adesso non so se la colpa è stata della traduzione magari forse la colpa è del russo magari scrivere evoca tempeste in russo era quattro righe un po' come il tedesco no no aspetta però questo è un punto interessante Simone sai perché tipo la scrittrice ha fatto una appropriazione della cultura rusa senza capirla ha detto ok queste sono cose che mi piace mi ispirerò a queste cose qui ma in realtà dopo non ha scollegato il significato dietro delle cose ruse no perché tipo ci sono nomi della storia che con la cultura russa sono nomi di uomini e poi ce li ha messi addosso alle donne per esempio ci sono se uno segue le regole grammaticali linguistiche ruse c'è una divisione tra nome femminili e nome maschili la scrittrice ci ha messo tipo i nomi maschili con le ragazze con le donne e qualcuno che sta leggendo questa cosa qui e capisce queste regole grammaticali viene completamente bloccato nell'inversione del mondo e un attimo ci devi fare dietro front perché non capisce cosa sta succedendo se ha letto male o no perché dopo non c'è nessuna spiegazione a livello culturale dopo c'è tipo una bevanda aspetta mi finisco e finisco c'è una bevanda che va buona quella bevanda russa c'è una bevanda c'è una bevanda sì russa particolare che è analcolica nel mondo reale sulla storia una persona finisce per ubriacasse come si chiama sto sfogliando il libro sperando di trovarlo a caso ma è difficile aspetta una bevanda un momento quello che voglio dire io una bevanda russa analcolica nella realtà esiste quello è il punto cioè perché nel senso l'anacronismo è che nel libro c'è una gradazione alcolica nel libro ci si ubriaca quando nella realtà è analcolica praticamente giusto ok esatto cioè c'è una gradazione alcolica di 1% ah sì 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 benissimo ok e vabbè Bakardi Breezer della Russia però diciamo tra virgolette queste sono cose che semplicemente aiuterebbero il lettore a entrare meglio nell'ambientazione sono diciamo scivoloni su cui se si parla semplicemente di quanto è godibile il libro specie per un ragazzo adolescente potremmo anche passarci sopra diciamo ecco sono diciamo quella differenza tra cercare di fare il capolavoro ma non ci siamo nemmeno secondo me Tommy comunque questi dettagli che tu hai detto Tommy secondo me potrebbero anche essere trascurabili nel senso il lettore medio dei libri del genere non è un esperto della cultura russa per cui non se ne intende se un nome è maschile o femminile eccetera uno che per qualche motivo conosce queste sfumature coglie magari l'impreparazione mettiamola così oppure semplicemente scelte dell'autrice che magari certi nomi suonavano meglio al maschile o al femminile eccetera sono scelte alla fine ragazzi fatemi un secondo finire quello che voglio dire a parte il fatto che de principio il world building poteva essere interessante almeno ambientarlo in una sorta russia zarista inizio 800 poi ovviamente tutto il resto della storia ha tutti i problemi c'è questa romance a 3 c'è questo world building che è rimasto letteralmente speso sospedito superficiale cioè lui lei si concentra totalmente su una romance e lascia molto tutto quello che ci potesse di intrigo di complotto così lo lascia stare anzi quando arriva quel momento del piccolo palazzo che diciamo più o meno dopo poco del libro a me sembrava di essere dentro un vice americano più che dentro a una sorta di luogo russo comunque istituzione russa ortodossa o cose del genere i personaggi sono per lo più abbozzati cioè c'hanno veramente guarda c'avevano meno di bortare awards per farti capire sì c'era veramente sono abbozzatissimi cioè stereotipati al massimo la protagonista l'ina è veramente insopportabile a volte c'ha dei momenti delle decisioni che pensi ma perché sta facendo questa cosa ma come sta ragionando tutto il resto ma a parte questo che secondo me è anche lo posso anche diciamo chiudere un occhio posso tutte queste cose che già sto criticando secondo me c'ha un difetto grandissimo questo romanzo cioè però c'ha un difetto che lo sorpassa più di tutti a me mi ha dato totalmente tanto fastidio che proprio l'ho odiato per questa cosa come è scritto ovvero quello che ho letto io a me sembrava una pozza di una sceneggiatura sembrava una cosa che venisse fuori per essere tranquillamente trasportata a film come se fosse una sceneggiatura perché ci sono una grande maggior parte dei dialoghi e di azioni o comunque Alina fa questo Alina fa quest'altro Alina vede questo Alina fa quest'altro tutto quello che è descrizione è risicatissimo c'è pochissima descrizione e tutto quando ci sono le riflessioni le suggestioni le idee che Alina in quel momento deve cioè il racconto ti deve dire per capire come lei si interfaccia una certa situazione anche lì so risicatissime streamingzite so melliflu e anche so tu lo senti poco è un libro veramente poco evocativo tu non senti la magia tutto quello che leggi ti passa liscio diritto è come se fosse un encefalogramma piatto e nonostante sia anche veloce come lettura perché tutto sommato una cosa del genere si legge scorrevolmente ma più che rendere il racconto coinvolgente a me a me l'ha reso neglioso cioè leggevo e non provavo niente non provavo nessuna sensazione perché l'autrice non si soffermava mai in certi punti non c'era mai in certe situazioni che cercava di costruire più la trama ci metteva una descrizione o cercava di dare una psicologia più complessa alla protagonista no lasciamo tutto così come se fosse un testo che si dava mano al regista e dici guarda devi fare questa scena e poi il regista la fai tu è una bozza è assolutamente una bozza e questo secondo me è il difetto più grande perché potevo pure soprassedere su tutte le altre cose ma il fatto che sia una cosa così piatta no no è quello che mi ha fatto proprio più arrabbiare ho fatto io sono d'accordo con te nel senso il libro è comunque molto piatto o comunque molto superficiale su tantissime cose quindi sì però la cosa che onestamente io ho odiato di più è il diciamo come posso dire sì essere d'accordo con te essere d'accordo io e Carbu è una cosa che forse ci fa odiare ancora di più il libro però a parte questo le due cose che ho odiato di più io è stato il fatto che non ho trovato il senso all'interno della storia perché dal mio punto di vista non c'era bisogno di fare tutto il super mega giro della super cazzola che fanno poi nella storia che non sto a spiegare per non non spoilerare però non c'era bisogno secondo me proprio no e oltre a quello il problema più grosso dal mio punto di vista è che forse l'abbiamo detto in altri in altri episodi ora non ricordo però solitamente quando si costruisce un'ambientazione fantasy dove c'è diciamo una magia la magia viene messa o con un sistema alto o un sistema basso un sistema alto un sistema magico dove viene spiegata tutta la magia come funziona a vari livelli di potenza il come viene lanciato un incantesimo tutto quanto il sistema magico basso invece viene lasciato molto libero molto tutto è un po' possibile diciamo molto più proprio magia intesa come una cosa magica puoi fare tutto in questo libro c'è un sistema magico basso però ci viene data una sola cosa ci viene detta una sola regola ovvero che i maghi questi griscia non possono creare dal nulla quindi quelli che avranno il controllo sul fuoco hanno bisogno del lacciarino della pietra focaglia per la prima scintilla quelli che hanno il controllo sul vento hanno bisogno comunque dei venti cioè comunque di una folata di vento comunque di essere uno spazio dove c'è dell'aria per poter creare la folata di vento lei è l'unica che fa come vuole fa proprio come gli pare crea dal nulla perché è un protagonista unico a un altro che c'è del merda hai dato una regola e la infrangi senza motivazione di causa non cerchi neanche di spiegarmi minimamente il perché oltre a questo poi ci sono anche altri Deus Ex Machina sul finale ce n'è stato proprio uno sul finale proprio che io giuro ho chiuso il libro mentre stavo a legge e lo volevo tirare contro il muro scusate il dialetto ma poi dopo io Deus Ex Machina li odio quindi ecco quindi niente per me non si salva nulla era interessante l'ambientazione l'idea dell'ambientazione che c'era stata inizialmente non è stata sviluppata bene quindi l'unica cosa che poteva essere interessante all'interno di questo libro è stata un'occasione sprecata il resto per me è tutto completamente bocciato e se c'è una cosa che questo libro mi ha imparato è che visto che sia Lake Bardugo che l'autore dell'impero del sogno l'altro libro che avevo letto con Carbo erano dei giornalisti prima di scrivere i loro libri fantasy se c'è qualcosa che ho imparato è come si dice sempre in dialetto dalle mie parti lo stagni alla fa lo stagni significa che il giornalista fa il giornalista lo scrittore fa lo scrittore ragazzi quindi stringendo da quello che ho capito non lo consigliate o non lo consigliate tanto? beh non è neanche troppo pesante quindi nemmeno se vi serve per mettere in asse un tavolo sì sono abbastanza d'accordo io vorrei sottolineare che questo libro non l'ho raccomandato io ero contrario all'idea di farlo ma comunque i motivi erano validi per leggere questo libro perché comunque serve qualcuno che si prende un po' le pallottole letterarie al posto dei nostri cari carissimi ascoltatori quelli siamo noi quindi ringraziate cari ascoltatori sia Simone che Carbo e anche Tommy da come ne parla sembra anche che Tommy abbia letto io ho avuto il privilegio di non dovermi no non ho avuto questo entrambi non abbiamo dovuto ossorbire questa ovviamente questo disastro fantasy questo è il primo libro del Grishavers non abbiamo letto quelli successivi quindi magari Lady Bardugo riesce comunque nei libri successivi a darci qualcosa di meglio sicuramente io non lo saprò mai una lancia una lancia a favore diciamo io ho ascoltato tipo la nona casa della Bardugo che è uno degli ultimi libri che ha pubblicato e devo dire che qualche passetto avanti l'ha fatto almeno la nona casa è più gradevole rispetto a sta robaccia questo era il primo libro quindi ripeto mettiamo le mani avanti probabilmente nei libri successivi avrà sicuramente migliorato il suo stile io non lo saprò mai molti lo ammettono che infatti ci sia stato cioè ci siano stati vari passi avanti nella scrittura e nel consolidamento di certe costruzioni narrative nella Bardugo rispetto a questo primo libro però pur io come te non ho voglia di rischiare un'altra volta quindi penso che lì ci vediamo sicuramente diciamo che il libro comunque impieghereste poco nel leggere cioè nel leggere se vi volete amare quindi questo qui più che un Grishaverse se vogliamo rimanere sul dialetto è un Grashaverse allora secondo me sembra giusto anche Mari consigliare qualcosa del genere se a qualcuno interessa young adult target forse non femminile ma col protagonista nel racconto femminile fantasy allora io personalmente vi posso raccomandare il fuoco e la rossa di Ray Carson che è una trilogia che purtroppo è stato tradotto solamente il primo libro in italiano perché noi italiani perché noi italiani siamo cretini così le case editrici italiane sono cretine così punto e basta perché la trilogia è bellissima è molto particolare la storia ma il primo libro nonostante sia una trilogia è particolarmente autoconclusivo perciò si può anche leggere da solo da quel punto di vista lì altrimenti potete leggervi un'altra scrittrice italiana Licia Troisi che ha fatto tantissimi libri con moltissimi protagonisti femminili e ci avevamo tipo i primi tre libri del mondo emerso dove la protagonista è Nial e troviamo la nostra protagonista che la vediamo crescere da piccola a grande in questo mondo fantasy con draghi lotte belliche gigantesche se no c'è la continuazione di quel libro di quel mondo le guerre del mondo emerso dove c'è l'altra protagonista che è Dube sempre protagonista femminile con i controcazzi carini belli da seguire sono persone che crescono nel tempo e c'è da gusto seguire queste queste donne queste ragazze che poi diventano donne e altrimenti trovate Mistborn di Sanderson Brandon Sanderson dove che è quello un altro posto cioè un altro mondo con una magia bellissima veramente originale molto bella da seguire e perciò se vi interessano comunque racconti young adult con protagonisti femminili e io vi consiglierei questi appena hai detto Mistborn di Brandon Sanderson ho visto già Tuccio come il nome di Frai con i soldi in mano shut up my money prima di arrivare a Mistborn devo finirne altri va bene ragazzi e anche Tommy se abbiamo abbiamo detto tutto quello che pensavamo cominciare con i saluti no 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 aspetta cosa facciamo la prossima volta cosa facciamo ah è vero la prossima volta io e Tommy andremo a parlare di nove principi in ambra di Roger Zelazny il primo libro del ciclo delle croniche di ambra bello stavo sbagliando con Narnia bello mentre Andrea e Simone poi ci porteranno noi resteremo sul fantasy italiano con l'ora dei dannati esattamente è proprio lui il libro c'ha avuto doveva il finale no è deciso io sul titolo del libro perché non ce l'ho qui sotto un attimo eh guarda caso neanche io giustamente o solamente perverso infatti il libro è l'ora dei dannati di Luca Tarenzi va benissimo ragazzi eh volevo solo dirvi che Bla Bla Fantasy lo potete anche trovare su Facebook e su Instagram eh lasceremo i link sotto in descrizione no mettete il mi piace e e cominciamo a intasare bene no aspetta aspetta cosa sono queste aspettative no queste sono spesa giusto come direbbero quelli bravi mettete il mi piace no queste sono aspettative troppo alte iniziamo ragazzi anche un mi non mi piace un mi dispiace va anche bene comunque cioè anche quello eh esatto potete mettere anche il evitateci invece che seguiteci allora potete trovare questo podcast anche su Spotify Google Podcast e anche su YouTube è incredibile siamo ovunque siamo ovunque siamo capillari siamo abbiamo invaso il mercato va bene vi ringraziamo vi salutiamo da parte di Andrea ciao a tutti a presto alla prossima autostoppista invadente sempre per ultimo e sempre con degli insulti ma comunque alla prossima va bene un caro saluto a tutti quanti ascoltatori ascoltatrici da Blabla Fantasy si no 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 no